Il solo messaggio di Casini che leva il suo nome dal simbolo e scrive la parola Italia vuol dire che qui è la casa di tutti i moderati, perlomeno la casa degli italiani di ispirazione cristiana ma anche laici che credono in una politica come mitezza, senso dell'altruismo, disponibilità verso il prossimo e esaltazione dei valori della persona. Noi abbiamo costruito un impegno nel sociale e nella politica con l'idea di dover servire. Oggi la gente soffre e noi alla gente dobbiamo dare delle risposte concrete. Dopo la brutta stagione del centro-destra e con il timore che una stagione del centro-sinistra venga dominata da quegli esponenti come Vendola, come Di Pietro, noi diciamo che al centro ci siamo e vogliamo presidiare quest'area per aprirci a quella sinistra responsabile, quella sinistra che oggi sostiene Monti e che dopo il rigore a livello nazionale chiede anche una politica di crescita, di sviluppo per dare risposta alle nuove generazioni.